Il rapporto con il cibo può essere fonte di malattia, ma qualche volta anche una terapia per alcune patologie. Di questo, ma anche di come i disturbi del comportamento alimentare siano tanto noti quanto nascosti, si parlerà al meeting organizzato dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva che si terrà il prossimo weekend a Bologna aperto ad istituzioni e cittadini. Si parla anche di bulimia, di anoressia, quindi anche il rapporto sbagliato che si può avere col cibo. Verrà analizzato in questa occasione da una psicoanalista molto noto, molto famoso, che ci darà la sua visione di questo aspetto e altrettanto verrà visto da un punto di vista più teatrale, ma sempre comunque molto profondo, da Alessandro Bergontoni. Bene cibo, etica ed estetica dell'alimentazione, questo è il titolo del meeting, avrà poi una parte più scientifica che vedrà al lavoro i massimi esperti a livello internazionale, tra cui anche i medici del Sant'Anna di Ferrara, per parlare delle malattie gastroenterologiche ad alta incidenza sulla popolazione. La celiachia è la più conosciuta perché ha un'alta incidenza, si parla che sia uno su cento affetto da celiachia e spesso non lo sa neppure. Poi ci sono le malattie fiammentorie intestinali che hanno incidenze anche quelle molto elevate, si va anche il morbo di esofago di Barrett che è una complicanza delle esofagite che è molto frequente e poi si va a tutta la patologia neoplastica. Lo scopo è appunto di cercare di trovare le migliori terapie e anche il modo più semplice per i pazienti per essere seguiti e avere accesso a queste cure. Qual è il metodo più semplice per avere accesso a queste cure? Beh, ultimamente ci si sta organizzando sempre sull'organizzazione di questi percorsi, quelli che vengono detti PDTA, che sono dei percorsi in cui il paziente viene preso in carico da un team multidisciplinare che comprende più figure e che agevola in qualche modo il percorso per arrivare sia alla miglior diagnosi e soprattutto alla miglior terapia possibile. Si può fare prevenzione? Assolutamente sì ed è anche uno dei nostri obiettivi perché ovviamente più arriviamo presto alla diagnosi per le nostre capacità di cura sono elevate. È una cosa complicata perché la prevenzione comprende modifiche dello stile di vita, modifiche di tanti atteggiamenti, ma è doveroso farla e poi ci sono tanti test che permettono di fare prevenzione. Ma il primo e il più semplice qual è? Ricordiamolo. Ah, sicuramente io sottolineo l'utilizzo dello sangue occulto per lo screening del cancro del colon che nella nostra regione è attiva ormai da dieci anni e sta dando risultati anche molto buoni. Grazie a tutti.